L'ondata di maltempo ha provocato danni e disagi non solo a Sarno ma in tutta la provincia di Salerno. Disaggi in particolare nell'area dell'agro nocerino sarnese, a Bellizzi, a Capaccio ed Agropoli, dove molti alberi sono caduti per via del forte vento. A Roccadaspide il tetto di un ex edificio scolastico a Carretiello è stato scoperchiato dal vento. Numerosi i sindaci del territorio che hanno deciso di chiudere le scuole in via precauzionale vista anche la proroga dell'allerta meteo. A Salerno sono stati circa 30 gli interventi dei vigili del fuoco, legati soprattutto alla caduta di intonaci e ad allagamenti di scantinati. Anche a Salerno disposta la chiusura delle scuole.